Buongiorno cari amici di youtube, quest'oggi credo quinto video, oggi parliamo dei lavori sul camper parliamo dei lavori sul camper due mesi dopo l'inizio di tutto praticamente dal momento in cui ho comprato effettivamente il camper e poi ho iniziato subito a lavorarci sopra ora sono passati due mesi, ho fatto veramente tante cose, mi rendo conto di aver fatto veramente tante cose c'è ancora tantissima strada da fare come potete vedere dal casino qui dietro e che ho qui intorno però sono molto soddisfatto ecco di come sta avvenendo fuori il camper e quest'oggi con questo video vi voglio far vedere cosa ho fatto rispetto al mese scorso, al video dove vi ho fatto vedere per la prima volta i lavori da fare, i lavori che stavo facendo e come quindi sta tutto procedendo, come tutto sta andando e nulla, adesso vediamo iniziamo quindi esternamente, esternamente il camper non è cambiato poi così tanto ho rimesso a posto le infiltrazioni che c'erano su questo lato del camper e qui sul tendalino qui in alto, spero che si veda e ho dato tutti i prodotti, quindi ho sigillato con il Sicaflex poi ho messo la gomma liquida e adesso ho dato la prima mano di guaina liquida che come vedete ha assunto questo colore diciamo verdognolo appunto a causa della gomma liquida che c'era sotto ma in ogni caso questa è la prima mano, dovrò dare la seconda e poi comunque vernicerò quindi non sono molto preoccupato questo è stato il grande dei lavori esterni, ovvero queste due infiltrazioni adesso andiamo a vedere però anche il tetto sì perché anche sul tetto ci sono delle novità molto rilevanti ho installato quindi finalmente che mi è arrivato il pannello da 450 watt posizionato in un punto tale che non mi preclude quindi il fatto di poter installare altri pannelli anche in altre zone del camper questo è un pannello a 450 watt monocristallino devo dire che quando ho visto le sue caratteristiche sono rimasto favorevolmente impressionato e vedremo poi una volta montato l'impianto elettrico come andrà sul tetto poi ho passato sempre anche qui la guaina liquida diciamo l'aspetto qua è come deve essere ovvero bianco perché sotto non c'era la gomma liquida e qui potete vedere anche che poi devo ancora fissare la retrocamera che mi servirà appunto per fare manovra poi come vedete ho anche intagliato un pezzo di portapacchi che tanto non mi serviva per non intralciare troppo con il pannello e se vi state domandando ah ma hai messo il comignolo del camper vicino al pannello sì perché tanto quel comignolo non lo uso non l'avrei voluto togliere di lì perché sarebbe rimasto il buco e non mi andava di riattapparlo quindi ho deciso di metterlo semplicemente vicino e via passiamo ora agli interni entro con questa scaletta come vedete c'è un casino veramente biblico questa era la pezzetta che ha caratterizzato il video poco fa forse l'avete notata comunque allora c'è un gran casino ragazzi quindi ve lo dico già da adesso ho riparato comunque l'infiltrazione qui davanti ho rimesso quindi i suoi travetti di legno ho rimesso il polistirolo e adesso sto ricoprendo anche con i pannellini piccoli di compensato come vedete anche qui è stato fatto diciamo che sto veramente a un buonissimo punto e sto facendo la stessa identica cosa anche nel bagno non mi è venuto super preciso in realtà nel bagno ma neanche mi frega più di tanto perché tanto comunque avrei ricoperto con delle mattonelle in PVC il bagno per renderlo esteticamente parlando un pochino più carino qui potete vedere che sto appunto facendo pressione sui pannelli montati da poco per far sì che l'incollaggio avvenga nel miglior modo possibile e quindi si può dire che non ho finito ma sono sicuramente a un buon punto da questo per quanto riguarda il bagno qua c'è ancora da rimontare poi tutta la roba ovviamente quindi le infiltrazioni erano il problema principale sul camper ho impiegato un mese praticamente tra una cosa e un'altra per metterle a posto non avevo mai fatto questo tipo di lavori quindi è stato impegnativo sotto più fronti però devo dire che sono praticamente arrivato agli sgoccioli con questo lavoro qui con le infiltrazioni e sono molto soddisfatto in realtà di com'è avvenuto il lavoro sicuramente se dovessi rifarlo per una seconda volta lo farei molto meglio però per essere la prima volta comunque me li tengo molto soddisfatto adesso passiamo agli altri lavori effettuati quindi ora qui dove c'era il sedile in questo momento si trova qui qui sotto c'è la batteria dei servizi come potete vedere e qui c'è il pannello dove erano installate tutte le cose diciamo elettriche ho previsto di montare un nuovo impianto elettrico completamente che avesse delle caratteristiche molto differenti ve lo farò vedere in uno dei prossimi video in ogni caso però ho anche iniziato con questo piccolo lavoro ovvero con il capire e con lo smontare tutto quello che c'era da fare per l'impianto elettrico sicuramente quando vi farò vedere il video sui lavori dopo tre mesi l'impianto elettrico l'avrò terminato perché ho in programma di farlo tra qualche giorno e sono a un buon punto anche con quel punto di vista perché vi ricordo che il mio obiettivo è quello di fare un viaggio quindi di vivere in camper per 365 giorni ma essendo indipendente al 100% dal punto di vista elettrico poi ci sono stati tanti altri piccoli lavori come ad esempio lo smontaggio di questo semi armadio perché poi non arrivava fino in alto ho comprato tutti i legni che mi servono per praticamente prolungare l'armadio fino in alto e per ricreare quindi uno speculare tipo questo qui quindi un altro armadio come questo dove io possa mettere tutte le cose di cui ho bisogno quindi rispetto a un mese fa a livello di numero dei lavori forse non è cambiato tantissimo ma ho fatto il lavoro più gigante che era quello delle infiltrazioni che veramente è stato molto difficile sotto molti aspetti conto di finire massimo in un'altra settimana per i lavori delle infiltrazioni quindi sicuramente il video che vedrete tra un mese quindi il video dove parlerò dei lavori dopo tre mesi conto che il camper sia veramente molto rivoluzionato e quasi pronto alla partenza più o meno mi ero messo in testa di quattro mesi di lavori sono arrivato al secondo mese quindi sono più o meno a metà anche se non mi sento proprio a metà con i lavori perché so che c'è ancora tantissima strada da fare però adesso che le infiltrazioni sono riparate che era la cosa più difficile mi sento molto più tranquillo e so che da qui in avanti diciamo che la strada sarà solamente che in discesa quindi ragazzi il video di quest'oggi si è concluso vi ho fatto vedere tutto quello che c'era da farvi vedere se avete qualsiasi cosa da dirmi qualsiasi consiglio perché comunque sono praticamente un neofita dei camper scrivetemelo qua sotto sui commenti mi piacerebbe sapere la vostra opinione o magari la vostra esperienza su queste tipologie di problematiche di lavori e magari lasciatemi un like come segno di apprezzamento e ci vediamo al prossimo video la community diventa un viaggiatore è qui per aiutarti ad aggiungere all'interno del tuo schema di vita la parola viaggiare infatti viaggiare che sia il tuo obiettivo di vita principale o che sia un tuo obiettivo di vita secondario è una delle cose più belle e stimolanti che possiamo fare nella nostra vita ed il primo passo verso la realizzazione di questo grande obiettivo è quello di iscriversi al corso 100% gratuito da zero a viaggiatore esperto questo corso gratuito potrà darti tutte le conoscenze necessarie per diventare fin da subito un vero viaggiatore esperto scoprendo decine di trucchi, tecniche e consigli che solo i viaggiatori esperti e famosi conoscono iscriviti adesso mi raccomando trovi il link qui in basso nella descrizione se hai qualche domanda particolare da farci scrivici pure un commento qui in basso se ti è piaciuto questo video mettici un bel pollicione in alto ed iscriviti subito al canale così non ti perderai i prossimi video che pubblicheremo su come diventare un vero viaggiatore ci vediamo sul prossimo video ciao iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale